Iscriviti al canale 2-2 è meglio contro il Mummia, 1-1-1-1 è meglio contro il Pirata Tai-1 Per il resto... Anche contro lui è meglio Lui è livellato, faccio compio-compio oppure no? Tengo che prendersi l'accolito e rollare Questo è meglio Che vittoria! Impressionante! Che vittoria! Impressionante! La carica delle due ruette! Mi ricordo cosa fa il badire rosteo bigolone È una 5-4 che all'inizio del turno Tiene un servitore base dello schieramento Dell'avversario con meno salute Quindi va a vedere chi è in ultimo E ti dà un pezzo suo E puntualmente ti dà una schifezza Ora devi impegnarti più e morire con 1-0-2 Eh, 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 eh Bigodin! Bigodon! Bigodin! Bigodon! Bigodin! 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 Come è il gatto? Ho simmetizzato i sal elementari Siamo andando alla grande Eriu apprezzato Sono contento Nooo Dai che non avevo perso Vincevo anche qui C'è un'altra C'è un'altra Eriu La questione se la vogliamo In quel lato di pali Secondo me no Secondo me non ha per niente senso Sta per cominciare la battaglia Credete che con Bigodon qui la situazione sia Eosea? La partita ancora è ben lunga Dall'essere di niente Questo è un gran fight Però va detto Va detto Va detto Quel che va detto Va detto Qui Qui l'abbiamo giocata molto bene E' un momento perfetto Per assoldare tutti i servitori E' di qui Micio Micio Sono evitato Per mettere la casa su primo? Potrebbe starci Eh ho giocato la bigliettaia eh Sei un po' che Kate Va bene Babini 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 Ma non sto andando male Però in tanti hanno tanti HP in questa partita Poi troppo Quo' qui Allora Mi Vuoi Non Come Ma Si Allora Attraverà Aspetito Do Numero Prendete un bel respiro Ciao, ciao, servitore Mi mancherai Vabbè Non sono dovuto andare un po' in gestione Cioè nel senso va bene Staccare lui Però devo Devo diventare più forte Madonnina Vabbè lo sniper Cocane però Chego quasi Ti prendi sta porcheria La faccio Il nome è buono Oh, saranno piccoli ma di sicuro sono adorari Ancetà Sì Ma pensate che io sia messo bene questa partita? Ma pensate che io sia messo bene questa partita? Ma pensate che io sia messo bene questa partita? Ma pensate che io sia messo bene questa partita? Ma pensate che io sia messo bene questa partita? E siamo qui Mh... 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 Mi ammazza Non mi avrebbe ammazzato Però Aveva fatto 22 danni al suo oppo Secondo me ci sta buttare via Nomi Ah sicuramente a posteriore Nomi andava tenuto Eh T12 Non è così Debole la lobby Devo mettere lui Piaci molto a questo servitore Quel servitore ti porterà più vicino alla vittoria Ciclone l'hanno bannato Eh sì Scegli un servitore che ti porti alla vittoria Ciao ciao servitore Mi mancherai Ma teplato Male male Ok Ok Closest of height Un'altra vittoria Un'altra vittoria Un fosfantastico Le cose dorate Sono le migliori Adoro quando hai in mente un piano Eh il chiotero di pari Prima purtroppo Non ci posso fare niente Restrizioni di sicurezza Diciattivate Utilizzazione Meccanismi di viettitura Un'altra vittoria Perché gli attacchi Sono stati una schifesa Ok Questo lo eliminiamo Che gli rubiamo Con la max Una dorata Che ne so La taunt Con la max Un'altra vittoria Fosfantastico Adoro quando hai in mente un piano Quel servitore ti porterà più vicino alla vittoria Onestamente quel piano Non mi serva niente Anche se il gol Se prendo a malgadone Non mi frega nulla A malgadone lo tolgo Quello Ciao ciao servitore Mi mancherai È un momento perfetto Per assoldare qualche servitore È un momento perfetto Per assoldare qualche servitore Non è un gianchi eh Cosa sta le zappe Ok Ok Ora facciamo un lethal direi Non è che gli rubo molto a lui Non ha niente Solo che otalo è buono Non è tutto un piccolo amico con grandi soldi proprio come te ciao ciao servitore mi mancherai servita bene no take that ciao ciao servitore mi mancherai è un momento perfetto per assoldare qualche servitore credo che gli altri siano un po' gelodi bigolone bigolone solo dovevamo aspettare il bigolone ragazzi per vincere l'unico modo per vincere è il bigolone non perdona no 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 no